e ciao a tutti amici e amiche di insight to games benvenuti in un nuovo video raga scusatemi la voce ma sono influenzato ma nonostante tutto raga voglio portarvi un video anzi vi invito a recuperare il video qualora non l'aveste visto per quanto riguarda la mia serie tv questo non è né il luogo né la sede per parlarne però vi invito anche a recuperare il video precedente che vi mostro il trailer della mia serie tv che sto progettando intanto siamo su ghost recon o recon come volete dire voi siamo su ghost recon breakpoint e nella modalità pvp cioè player vs player adesso andiamo raga giù qui è molto molto tattico sto giocando insieme al mio fratello che lui giocare a questi giochi qua raga è una novità poi sotto fatemi sapere sotto nei commenti se voi ci giocate cosa ne pensate ma io sfrutto questi piccoli momenti dove diciamo anche il pvp c'è il player vs player nella modalità online è molto molto tattico il gioco voglio dirvi la mia brevemente allora secondo me raga ha delle potenzialità intanto questo a fianco mio fratello il gioco ha delle potenzialità non sfruttate appieno poi ne parleremo in una sede mamma mia per poco raga headshot ne parleremo in una sede migliore boom stavolta l'ho preso raga stavolta l'ho preso questo gioco ha delle potenzialità ma non sfruttate appieno intanto io mi sto divertendo anche nella modalità online poi ci sono giustamente persone che dicono mi piace più il single player alcuni addirittura dicono solo multiplayer io raga devo dirvi la verità mi sto divertendo sia nella modalità offline cioè che poi raga sto gioco è sempre online però mi piace sia nella modalità in single player che in co-op che in multiplayer solo devo precisare che il gioco non ha delle potenzialità cioè ha delle potenzialità ma non è stato sfruttato appieno ok io ricarico l'arma attenzione boom mamma mia raga il cecchino lì tanto questo si è nascosto via con le capriole alla gta abbiamo fatto fuori uno rianimiamo mio fratello mi sembra si ok lo sta rianimando lui perfetto io intanto copro vedo se escono altre persone poi fatemi sapere se volete altri video su ghost recon le porterò più match volentieri oh raga c'è solo quello lì adesso lo staniamo con qualche fucilata vediamo un po' lui si è rialzato e boom eh raga l'ho preso però eh bam buttato a terra raga eh il problema è che adesso lui siccome è in una zona molto coperta può rialzarlo mh per poco raga mi sembra che lui abbia tutte le bam eh stavolta l'ho preso raga stavolta l'ho preso mi sembra che ha tutte le tacche dell'energia prima aveva almeno boom di nuovo a terra raga mi sembra eh niente raga stiamo facendo tipo la caccia alla quaglia qui non so ormai sappiamo che è lì andiamola a stanare pushiamolo come si vuol dire è perfetto turno vinto è alla meglio delle tre eh raga il primo che vince eh tre round ok 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 qui abbiamo le nostre belle dotazioni raga questo gioco ha un'immensità d'armi cioè ha tante di quelle armi che bastano anche per altri giochi cioè ha tante di quelle armi io sono abituato adesso a giocare così con un fucile d'assalto con il fucile di precisione la pistola come arma diciamo supplementare proprio alle strette raga la si usa ok graficamente raga non è c'è cioè non è c'è il suo però ci sta buono può darsi che in un post lancio magari supportino il gioco con qualche DLC gratuito oppure a pagamento però con qualche season pass perché la Ubisoft non è nuova in queste idee prendiamo tipo di division 1 e 2 soprattutto il primo inserendo DLC gratuiti raga vabbè io la dico all'italiana raga DLC quindi inserendo DLC gratuiti comunque tipo survival mi viene in mente anche lì c'era una specie di modalità dove si chiamava proprio point una cosa del genere comunque speriamo che supportino anche questo gioco perché fino adesso a me personalmente non ha deluso proprio chissà che l'ho beccato un po' il drone ma non voglio sprecare munizioni e soprattutto non voglio farmi scoprire per abbattere un drone andiamo di qua vediamo cosa c'è ok poi man mano raga porterò di nuovo anche la facecam chi mi sta seguendo lo sa che all'inizio non la portavo poi l'ho portata poi adesso non la sto portando più ma anche perché raga oggi questo video lo faccio uscire proprio in estremis perché dal thriller che ho caricato della serie tv che ho in progettazione non sto caricando più niente raga non posso lasciare il canale così scoperto un tot di giorni quindi chiedo scusa alla voce il prossimo video sarà un video su fifa 20 siccome ancora non ho portato nessun match che ecco ripetendo la stessa frase chi mi segue su instagram sa il gol che ho fatto ma non voglio anticipare niente raga perché quel gol penso di inserirlo anche in un ma penso di inserirlo anche proprio in un in un video dedicato proprio caricherò tutta la partita dove ci sarà anche il gol ok intanto andiamo qui raga subito uno lo facciamo fuori si gira mi vuole colpire non ce la fa atterrato via ok rianimiamo di nuovo mio fratello raga un muro così non lo scavalca ma vabbè che poi raga la cosa ironica è che io giocando un po più sfrontato quando abbiamo giocato in coppa facendo la storia questo gioco è il mio fratello più che altro che rianimava me ecco onestamente una granata boom mio fratello zuppicante uh cecchino raga cecchino via capriola ormai sei mio ha battuto raga e questo ci dà l'opportunità per vincere il match raga non solo il round ma il match perché questa era alla meglio delle tre bene ragazzi e ragazze io che dire spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse vi invito a lasciare un bel pollicciolo all'insù fatemelo sapere sotto nei commenti iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella per non perdere altri video sia su ghost recon che su altri blog altri gameplay quant'altro fatemi sapere sotto nei commenti se voi ci giocate qual è il punto a favore che voi avete trovato in questo gioco oppure anche da chi ha visto il video fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto in un bel commentino e raga vi invito di nuovo iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione all'insù condividete il video sui vostri social attivate la campanella seguitemi su instagram vi lascio tutti i link in descrizione link for my instagram in description raga io vi ringrazio sempre di cuore per il supporto invito anche a recuperare il video che ho fatto della mia serie tv raga che ho in progettazione l'ho caricato un paio di giorni fa spero di portare altri video su ghost recon al più presto ho fatto anche già una specie di mini walkthrough della prima oretta di gameplay quindi fatemi sapere se volete che vi porti anche di solito si carica prima un po' la storia e poi il multiplayer però io ho preferito caricare prima il multiplayer per sapere la vostra fatemi sapere se volete che vi carichi anche il walkthrough c'è la prima oretta di gioco io vi ringrazio sempre di cuore per il supporto lasciate tanti bei pollicioni arriviamo a 150 like mi raccomando alla prossima ciao da Inside 2 Games